Dio si è fatto uomo per poter piangere quello che avevano fatto i suoi figli e anche oggi davanti alle calamità, alle guerre fatte per adorare il Dio denaro, ai bambini uccisi Dio piange. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo del giorno nel quale prima definisce Rode che lo vuole uccidere volpe e denuncia che Gerusalemme chiusa uccide i profeti. Poi cambia tono e comincia a parlare con tenerezza, ha spiegato il Papa, e piange per Gerusalemme, che non capisce la pace che lui ci offre, la pace dell'amore. È Dio padre che piange qui nella persona di Gesù, ha aggiunto Francesco. Tante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia, i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Anche oggi davanti alle calamità, alle guerre che si fanno per adorare il Dio denaro, a tanti innocenti uccissi, dalle bombe che gettano giù gli adoratori dell'idolo denaro. Anche oggi il padre piange. Anche oggi dice Gerusalemme, Gerusalemme, figlioli mei, cosa stai facendo? E lo dice alle vittime, poverette, anche lo dice ai trafficanti delle armi e a tutti quelli che vendono la vita della gente. ci farà bene pensare che il nostro padre Dio si è fatto uomo per poter piangere e ci farà bene pensare che il nostro padre Dio oggi piange. Piange per questa umanità che non finisce di capire la pace che lui ci offre, la pace dell'amore. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.